Carissime Quanto tempo ci vuole ancora dottore? La chiamiamo noi, facciamo un brindisi E a che? A te no? La verità è che sei un videocchio Hai paura perché comunque vada sia la fine di tutta questa storia Io ti sono stata vicina Tu non avrai mai il coraggio di dirmi è finita Paolo ma tu cosa pensi di me veramente? Dai rispondi C'è il torto e mi fa ricordare proprio mio figlio Perché c'è una figlia? Si chiama Tracy Com'è che non ti viene a trovare? Vuoi volare? No no grazie Hai una paura grande così di morire Corri! 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 Grazie.